E' senza dubbio il più bel periodo dell'anno, ma il Natale non fa per il Crotone, oppure possiamo dire che questa volta lo identifica pienamente, visto il regalo concesso agli avversari. Che non sarebbe stato facile, lo si sapeva già alla vigilia. Se poi ci si aggiunge anche la componente, dettata dall'incertezza paradossale di Gomis, la frittata è bella e servita. L'estremo difensore del Crotone purtroppo non è nuovo a certi svarioni. Il suo atteggiamento sicuro da portiere navigato è costato caro anche contro l'Empoli. La classifica sorride ancora, ma poteva essere molto più imponente. Non bisogna assolutamente buttare la croce su Gomis, che tra l'altro in altre circostanze è stato determinante per il risultato. Ma per quello che ci compete non possiamo fare a meno di parlare di questo errore, purtroppo determinante ai fini della sconfitta. L'1-0 subito ad inizio gara comunque ci è parso rimediabile. Se il Crotone avesse sciorinato con la lucidità che lo ha contraddistinto in altre partite, il gioco che gli ha consentito di portarsi nei piani alti della graduatoria, probabilmente non avrebbe perso. Possiamo affermare che al di là delle indecisioni di Gomis, tutta la squadra ci è sembrata un po' sottotono. Pochi giorni alla chiusura dell'anno e del girone d'andata. Domenica si replica l'uscita contro il Palermo, unica squadra oltre alla Trapane ad aver vinto in casa. Per il resto una giornata tutto sommato molto natalizia. Una partita stragatissima, l'abbiamo dominata soprattutto nel secondo tempo, però siamo stati puniti ancora una volta purtroppo da una disattenzione. Sì, è capitata questa disattenzione che ha messo sotto l'aspetto tattico la partita come voleva il Trapane, perché loro si chiudono e poi sono giocatori davanti a linea di passenza, quindi da questo punto di vista siamo stati fortunati. E poi penso che nel secondo tempo abbia giocato solo una squadra e con questo momento facciamo conti a finalizzare. Sì, questo è vero. Nel secondo tempo c'è stato solo un crotone. Io cambio un attimo discorso per chiederti se questo pareggio potrà influire sulla gara di domenica prossima con il Palermo, dal punto di vista psicologico, si è ben chiaro? Ma non penso perché un allenatore deve essere bravo a divisere quello che è il risultato dalla testazione della squadra. Io obiettivamente ho fatto i complimenti della squadra, anche se mi sono arrabbiato perché non sapevo la loro aggressività iniziale, quindi avevo detto di magari nei primi minuti di non giocare a palladietto. Però insomma siamo talmente abituati a farlo che non siamo stati più bravi nel cambiare asseggiamento. Però sotto l'aspetto mentale dobbiamo ricaricare le batterie, dobbiamo soprattutto valutare quelli che sono gli infortuni. Ci mancherà Lorenzo e il fede, dobbiamo valutare la condizione di Lorenzo Prisic, però insomma andiamo a campione e non riuscire in campo e ce la giocheremo la notte. Va bene, grazie Massimo, ti lascio rientrare. Pensiamo al Palermo e ad un grande riscatto del cordone domenica. Ok, grazie. Grazie Massimo, grazie. Ciao.